No. Devo fare i punti per prenderla minigun, seno non posso andare avanti E ho fatto questo circolo vizioso, a me vediamo per due sono qua, wii 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 Sì dovrebbe arrivare a più di mille, vabbè stiamo qui per un anno e mezzo è venuto scuole pesciolini peggio di questo non mi sono specialmente della shaks oggi siamo qui su al p rom che cosa troppo io un soldo che cosa aumento la minica mi ringrazio grazie se ok adesso devo fare le missioni sia beh io sono riuscita ad arrivare fino al macete sta roba qua ho fatto una combo bellissima ci ho messo 20 anni per capirla è una combo però complicata da fai raga quasi impossibile forse ve la metterò a inizio video perché vede un combo troppo complicata ragazze non ce l'avete mai a fare però ve la faccio vedere vabbè iniziamo a mettere devo fare 7 shot con la shotgun shells è bella cosa qua e milani con la minican e poi mammy nel mammy fly con cui sei così cosa aspetta non so come fare quella per ora vediamo di farà forse una cosa del genere ok ragazzi eccoci qui ho fatto questa impostazione tra minican però volevo provare un'altra cosa a mettere più minican vediamo un po mettiamo più minican tanto che chi se ne frega mettiamo a 3.000 amica qui qui oppure qui ma forse quando sono la spuglia proviamo ragazzi da fare mille danni con la minica vediamo se riesco a farli dai 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 no per poco sarebbero che quindi ci metterò qua questo consiglio di butta nella mischia praticamente sparo sparo che va giù no ma perché ha funzionato prima e non va più ma perché sta cosa da un posto sopra prima ha funzionato perché non funziona più dai dai niente niente ho capito si può stare proprio qua ok proviamo ora no 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 dobbiamo tolterà meglio tu devi stare qua ok vediamo un po niente lo spingono troppo in là praticamente dobbiamo metterci qualcosa per non farlo spingere troppo là quindi altri armi che lo blocchi lo posso mettere tipo questa qua ah non attacca però sopra un po niente c'è qualcosa per non farlo spostare questo che dite raga non so che cosa sia sta roba però dovrebbe dovrebbe bloccarlo ma non lo so proviamoci non so chi deve essere ragazzi oddio oddio vai vai no ci dobbiamo mettere semplicemente uno di quelli che fanno rimbalzare lì dai 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 mamma mia vediamo un po vediamo un po vediamo un po no vai e 3 e ciò è sblocato la ma per i due dove si deve baggare di un dove tolta dappertutto sicuramente no seguiva ovunque o vai proviamo adesso chips ma tutti tuttuk tuk 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 u etcetera TY sparatelo nori robia mamma mia poi la mia un mio dio dai odio oddio vai o no spetta forse posso mai sì 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 ce l'ho fatta si sì dai facciamo danno così a uova donna mia cos'è sta roba massacro ma secondo me si sta si sta divertendo ma mi secondo me si sta divertendo e non lo so è scomparso ho fatto il 5 ma c'è un'altra missione quando non so come però non so come fare tipo questa adesso la posso fare invece di di miligan ci metto di shotgun andiamo un po non dovrebbe cambiare molti in realtà è andiamo un po andiamo un po magari sono più forti non lo so non ci provo shotgun proviamo un po se funziona oddio oddio guardatelo a m rimane l'incastrato però mai mai oddio che cosa sta succedendo e smungo sapire che non ho più armi bellissimi danni bellissimi danni allora 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 del 1500 con ax è non ce l'ha ancora qui non la posso fare però 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 beh adami dita ax ax spai su è il problema è che posso fare solo questa make make dam fly for queen secoli usi di miligan come cacchio faccio io avrei un'idea però è difficilissima perché leviamo tutto allora se io mettessi questo coso qua lo facessi rimbalzare dove rimbalza con la in fondo no rimane rimbalza sempre la in fondo non è che ti cambia ok perfetto perché potrei mettere tipo questi qua concomiccon in minigan tipo vuoi visita no si qua e qua così volete l'ospat ok nel caso poi cadesse giù ho pure qua perché sicuramente lo spiegherà questo mettere mettessi mettere i metti quando un altro coso qui un altro qua tanto dovrebbe prendere con questo mettere un altro minigun qua così no perché non vuole il danno vuole semplicemente che vai 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 no ma deve stare 15 secondi consecutivi e se invece facessi tipo una cosa brutta una cosa che non si fa tipo una cosa che bari se lo fai però dovrebbe riuscire un teletrasporto qua questo sopra lo si vola sempre dopodiché questo che lo fa ribalzare là e i minigun sempre lì iscriviti al canale